Vi ricordate quella famosa pubblicità di un tempo contro il logorio della vita moderna Cinar? Ma Simona sei diventata un'alcolizzata? No, la pubblicità si riferiva a un liquore al carciofo, ricco di cinarina, per questo si chiamava Cinar, è il principio attivo. Il carciofo è detox e protettivo della salute e l'alcol va assunto con moderazione, sempre. Ma oggi vediamo i benefici dei carciofi con alcuni segreti che non tutti sanno. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E se volete nuove idee per cucinare in modo trendy e sano anche i carciofi, in descrizione vi lascio il link al mio libro Alimentazione Naturopatica, con il mio recettario light detox amico della linea e della salute, un vero must da non perdere. Ecco i principali benefici dei carciofi. Poche calorie. I carciofi sono un alimento ipocalorico, con pochi grassi quindi perfetti per una dieta dimagrante. Inoltre contengono inulina, una sostanza benefica che nutre la flora batterica intestinale e tiene lontana la voglia di zuccheri. Colesterolo. I carciofi sono nemici del colesterolo, aiutano a ridurre quello cattivo e stabilizzare quello buono. Combattono i trigliceridi grazie alla luteolina, un antiossidante che protegge dal colesterolo alto. Ricchi di nutrienti. Nel carciofo troviamo ferro, potassio, calcio e magnesio, ma non solo, anche vitamina C, vitamina K e tante fibre amiche dell'intestino. Glicemia del sangue. Sembra che i carciofi aiutino a mantenere in equilibrio gli zuccheri nel sangue, perché rallentano l'azione degli enzimi che scindono gli amidi e li trasformano in zuccheri. Detox del fegato. Questa forse è la proprietà dei carciofi più conosciuta e decantata. Ma cosa fa esattamente questo carciofo? Prima di rivelarlo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e abbonarvi, cioè sostenere il mio lavoro con un piccolo contributo mensile tramite YouTube stesso. Fatelo. Un grazie di cuore agli amici che già mi sostengono. Ciao. Come dicevo, i carciofi contengono cinarina, un principio attivo che stimola la produzione della bile e la sua immissione nel tratto intestinale. Tecnicamente queste due funzioni fisiologiche si chiamano azione coleretica e colagoga. Secondo uno studio pubblicato su Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, il flusso della bile è fondamentale per tutta la salute. La bile non serve solo a digerire i grassi e ridurre il colesterolo, ma ha anche un effetto detox del fegato, quindi di tutto l'organismo e favorisce la peristalsi. Puliti dentro e belli fuori? Esatto! E per seguire tanti altri consigli detox, in descrizione trovate il link al mio ebook sulla dieta detox oppure seguire i video di questa playlist. Ora condividete questo video e mangiate carciofi mi raccomando! Ecco un trucchetto, se usate i cuori non buttate via le foglie esterne, le potete mangiare crude in insalata, la parte più chiara e tenera ovvio. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Con alcuni segreti carciofi!